A fare una scuola di sci di fondo, sulla spiaggia, cioè quello lì vuol dire avere una macchia che riguarda il lavoro, l'ingegnarsi, e non piacere se fosse, se c'è dei problemi, c'è l'abate, ha uno strano castello, giù a chi le calza a pennello, giù a, con Mirko, i rumori, quanta, mi ti ha posto come su un misturante, mi porto l'intermangelo, la carne non le mando, la carne non le mando, la carne non le mando, e la soffia, stanno partendo una serie di migoglioni, anche gli angeli, capitano, capitano,